Ciao, buongiorno amore mio, come stai? Tutto bene, mi risponderai. Non va tutto bene se non mangi niente, ti piace solo il caffè. Io non sto con te, io sono a te, ma arrivo a te. Anna? Ah, Antonello. Ciao. Come stai? Bene. Questa è mia sorella Roberta. Tua sorella? Piacere. Ciao, piacere, io sono Roberta. Questa è la mia famiglia, lui è mio cognato Claudio, Roberta è sua moglie. E io sono Elisabetta, la mamma di Antonello. Piacere signora, io sono Anna. Piacere. E chi è questo bambino? Bambina. Questa è mia nipote Beatrice. Bella come suo zio Antonello. Ah, parli cinese? Io studio cinese. Io cucino cinese. Ah, che brava. E da dove vieni? Da Napoli. Ah, ho amici Napoli. Napoli. Mio padre è di Napoli. E la mamma? È di Milano. Bella Milano. Mangiamo un gelato? No, sì. Più avanti, certo. Ortiz. Tille. Tres. Grazie a tutti.